eccoci ora siamo alla parte elettronica qui io ho preso come nel video precedente un case l'ho modificato applicato un legno qui sotto lasciato un po di spazio per far passare un pochettino d'aria qui ci sono ovviamente i quattro drive con la modifica per poter modificare i settaggi direttamente dal pc tramite una porta rs e adesso qua e ho acquistato questo datatore usb che andrò prendere tutti i cavi li porterò tutti in parallelo alle sue ai suoi ingressi e uscite e poi tramite una usb lo porterò al computer li potrò modificare senza dover andare a schiacciare direttamente qua sopra e in tempo reale quindi aumentare diminuire tutto in tempo reale senza dover modificare un drive alla volta perché gli andrà a modificare tutti assieme ora inizierò il cablaggio su rete 220 quindi monofase che vanno anche a trifase questi drive e niente andiamo